Fiorelli, pronto a far ripartire il trenino del mare? Sì, una partenza un po' insolita perché questo trenino siamo abituati a vederlo nel periodo natalizio per le vie del centro di Pescara. Abbiamo avuto quest'anno l'idea di spostarlo proprio sul mare, ribattezzarlo come trenino del mare e offrire un servizio nuovo, diverso, allegro, sia per i più piccoli ma anche per i più grandi che coprirà sia la zona sud che la zona nord. Oggi siamo qui a Porta Nuova e farà tutta la riviera di Porta Nuova per offrire un'alternativa valida all'uso dell'automobile perché sappiamo benissimo che i parcheggi per il mare non sono mai sufficienti allora l'alternativa è oltre alla bicicletta andare a piedi anche quella di poter parcheggiare comodamente gratuitamente la propria auto qui nel piazzale antistadio e utilizzare sempre gratuitamente il trenino per regarsi al mare un modo simpatico, diverso e anche ecologico. E soprattutto un piacere per i bambini? Un piacere per i bambini, oggi lo inauguriamo proprio con una colonia di bambini e questo mi fa enormemente piacere ma anche per gli adulti perché vedo che sono tanti gli adulti interessati un modo diverso all'aria aperta per andare al mare in maniera simpatica anche comodo perché si sale facilmente, si possono portare anche piccoli oggetti che servono sulla spiaggia. E soprattutto Fiorilli sarà un trenino davvero per tutti? Un trenino davvero per tutti, di ultimissima generazione, ha bassissimi livelli di inquinamento e per fortuna ha anche l'accesso per i disabili, in questo caso nell'ultima carrozza è possibile far accedere anche a punti diversamente abili, questo veramente significa un trenino che può utilizzare chiunque.